Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della chiesa diocesana di Pescara Penne. In Abruzzo da gennaio 2020 a marzo 2022 ci sono state 4.655 denunce di infortuni covid, di cui 32 purtroppo mortali. I primi due settori per incidenza sono senza dubbio quello dell'ambito sanitario e dell'assistenza sociale con il 73,9% seguito dal noleggio e servizi alle imprese con il 9%. Lo rileva la CGL Abruzzo-Molise. La provincia più colpita risulta essere quella di Chieti con 1.376 casi denunciati e il 29,5% di incidenza sul totale, seguita da Teramo con 1.251 casi e il 26,9% di incidenza. Pescara con 1.069 casi e il 23% di incidenza e l'Aquila con 959 casi e il 20,6% di incidenza. Il 77,3% delle denunce riguarda donne e il 33,3% uomini, mentre la fascia di età più colpita è quella fra i 35 e i 64 anni, che rappresenta il 79,3% dei casi totali. Le conseguenze da covid sono spesso pesanti e sottovalutate, eppure gli infortuni da coronavirus rappresentano una triste realtà con conseguenze sociali anche gravi. L'Inai nel suo ultimo rapporto evidenzia per l'Abruzzo una situazione preoccupante. 4.655 infortuni covid con 32 morti dall'inizio della pandemia a marzo 2022. Questi dati, sostiene la CGL, dimostrano ancora una volta la necessità di non abbassare la guardia, tutelando i lavoratori ed evitando di ritenere superflui norme, accordi e protocolli che invece vanno gestiti attraverso un costante e continuo confronto con le parti sociali, protocolli necessari, scrive ancora la CGL nella sua nota, a rendere i luoghi di lavoro e di vita sicuri sia per le lavoratrici e i lavoratori che vi operano sia per i cittadini. E sono 1.291 nuovi casi positivi al covid registrati ieri in Abruzzo, dove il bilancio dei pazienti deceduti ha fatto registrare purtroppo 10 nuovi casi salendo a 3.199. i dimessi o guariti sono 1.351 in più, mentre gli attualmente positivi sono 73 in meno, 325 pazienti, 3 in più, sono ricoverati in ospedale in area medica, 12 numero invariato in terapia intensiva, mentre gli altri 53.123, ben 76 in meno, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL, eseguiti 1.190 tamponi molecolari e 6.236 test antigenici con tasso di positività al 17,38%. La politica. Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio, è stato eletto ieri per acclamazione il nuovo Presidente del gruppo dell'ECR nel Comitato Europeo delle Regioni dell'ECR e il gruppo degli europei conservatori e dei conservatori riformisti per l'Europa. Esprimiamo a Marsiglio le nostre più sentite congratulazioni. Siamo sicuri che grazie alla sua profonda esperienza politica e amministrativa e alle sue capacità, egli sarà in grado di svolgere al meglio il suo importante incarico. Così si sono espressi in una nota il co-presidente del gruppo di ECR Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo, Raffaele Fitto, e la delegazione di Fratelli d'Italia composta da Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Raffaele Stancanelli, Vincenzo Sofo e Giuseppe Milazzo. Nei giorni di giovedì e venerdì il Networking Tour farà tappa a Chieti, organizzata dal Ministero delle Politiche giovanini, in collaborazione con l'Agenzia Nazionale per i Giovani, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro e la Carta Nazionale dei Giovani in iniziativa ha l'obiettivo principale di coinvolgere i giovani in azioni di formazione e avviamento al lavoro. I NET, cioè i giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni, sono coloro che non studiano, non lavorano e non fanno formazione. Le ultime statistiche su questa categoria danno numeri in crescita a causa dell'emergenza sanitaria che ha fatto registrare una forte contrazione della domanda sul mercato del lavoro e una riduzione dell'offerta formativa. In questo senso l'iniziativa nazionale vuole riannodare i fili di un confronto con quei giovani che sentono la necessità di entrare nel mercato del lavoro e che per questo necessitano di un supporto specifico. La due giorni di Chieti, unico appuntamento abruzzese, si terrà presso la facoltà di lettere al campus universitario dove arriverà uno speciale truck, cioè una sorta di camion che ospiterà un palco e sarà allestito un vero e proprio villaggio dove i giovani potranno ricevere informazioni e supporto. Sta bene la bimba affetta da epatite in cura all'ospedale di Pescara. Al momento è l'unico caso nella nostra regione, nessuna relazione evidente con il Covid. La piccola si legge in un comunicato della ASL di Pescara, pur essendo stata esposta al potenziale contagio da SARS-CoV-2 da parte del genitore positivo, non mostra segni diretti di questa infezione. Da sottolineare invece il reperto di positività per infezione da adenovirus, patogeno comune anche nell'età pediatrica, tradizionalmente non responsabile di quadri clinici di epatite, ma al momento sotto indagine per la sua apparente correlazione con numerosi casi di epatite da causa sconosciuta. Grazie alla collaborazione con il laboratorio di microbiologia diretto dal dottor Paolo Fazzi, sono in corso ricerche più approfondite sul ceppo di adenovirus riscontrato nella bambina, allo scopo di chiarire sue eventuali peculiarità che possano chiarire l'ipotetica correlazione con l'epatite in corso dall'ASL di Pescara. Aggiungono comunque rassicurazioni che dicono che non c'è al momento un allarme epatite in città e nella nostra regione. Dal 9 maggio anche a Pescara le forze dell'ordine potranno utilizzare la Taser. Si tratta di un'arma a impulsi elettrici che garantisce più sicurezza e maggiori garanzie nella gestione delle situazioni critiche. Ha detto ieri il sottosegretario di Stato all'interno Nicola Molteni partecipando a un convegno insieme alla vice capo della polizia Maria Luisa Pellizzari. Non è assolutamente uno strumento di tortura, ha aggiunto Molteni durante l'incontro organizzato dal sindacato FSP Polizia di Stato e ospitato all'Aurum di Pescara. Alle numerose autorità civili e militari e bruzzesi presenti, sia il sottosegretario che il vice capo della polizia hanno spiegato le motivazioni che hanno portato il governo a decidere di far dotare polizia, carabinieri e guardie di finanza di 4.482 armi a impulso elettrico, chiarendo che si tratta di armi che bloccano momentaneamente la persona a livello muscolare e che si tratta di armi da utilizzare in caso di contatti con organizzazioni criminali insomma veri o comunque persone molto aggressive. Rapina nel pomeriggio in una gioielleria nel centro di Pescare. Nazione in via Cesare Battisti, secondo le prime informazioni, tre uomini con il volto parzialmente coperto dalle mascherine. Approfittando del fatto che gli addetti stavano sistemando le vetrine e che la porta era aperta, gli uomini addetta dei testimoni non armati sono riusciti ad entrare nel negozio minacciando il personale per poi fuggire con nove orologi di marca Rolex per un valore secondo una prima quantificazione pari a 80-90 mila euro. Lanciato l'allarme sul posto è arrivata la polizia di stato con squadra volante e mobile. Indagini e ricerche in corso da parte degli investigatori che stanno ascoltando i testimoni e visionando i filmati registrati sia delle telecamere di sorveglianza dell'attività commerciale sia da quelle cittadine presenti in zona. Potenziamento e digitalizzazione della pubblica amministrazione e infrastrutture digitali. Sono questi gli assi di intervento del Ministero dell'Innovazione Tecnologica e della Transizione Digitale finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per 13,45 miliardi di euro a livello nazionale. Al momento non è disponibile un dato puntuale sulle risorse del PNRR in ambito digitale per le singole comunità. In ogni caso l'Osservatorio Abruzzo ha calcolato che la nostra regione è inserita in lotti che cubano complessivamente 703,3 milioni di euro. Lo sport, la Procura Federale torna a rivendicare la sua teoria sul caso Plus Valenza che vede coinvolto anche il Pescara dopo la soluzione degli 11 club tra cui anche il Delfino e dei 59 dirigenti deferiti da parte del Tribunale federale tra cui il Presidente Biancazzurro Daniele Sebastiani, il Vice Gabriele Bancowski e il Consigliere Roberto Druda tutti prosciolti dal Tribunale nazionale federale. La Procura guidata da Giuseppe Chinea ha presentato il ricorso alla Corte Sportiva d'Appello. L'udienza si dovrebbe tenere tra una ventina di giorni. Dall'Ucraina martoriata dalla guerra a Roseto degli Abruzzi per continuare a vivere il sogno di fare sport. Anzerika, Natalia, Ieli Zavieta, Daria, Anna e Veronica, ovvero la nazionale ucraina, 3x3 femminile, potranno proseguire il loro percorso di allenamento per arrivare nelle migliori condizioni e le attività internazionali dell'estate. Tutto ciò è stato reso possibile dalla solidarietà messa in campo dalla Federazione Italiana Pallacanestro, dal Comune di Roseto e dalla famiglia rosetana dei Cimorosi, tre attori che insieme hanno reso possibile il soggiorno nella città delle Rose per le atlete ucraine e tre componenti dello staff a partire da ieri. Le istituzioni locali e quelle dello sport italiano e il presidente del CONI, Giovanni Malagò e quello della FIP, la Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci, hanno celebrato dunque non solo l'apertura del primo centro tecnico federale 3x3, ma anche soprattutto un momento di accoglienza. Sono contento di vedere qui di fronte a me la squadra ucraina femminile di 3x3, ha detto Malagò, e mi fa davvero molto piacere che si sia trovato in modo non solo per farvi soggiornare a Roseto, ma anche e soprattutto per potervi far svolgere quegli allenamenti che vi consentiranno di difendere i colori del vostro paese nelle prossime competizioni, ha detto il presidente del CONI inaugurando appunto il centro sportivo. Noi veniamo alle previsioni del tempo, appunto venendo a vedere quelle che sono le previsioni sulla nostra regione, sulla quale si prevede un cielo sostanzialmente sereno nella giornata di oggi con poco nuvoloso al mattino, mentre addensamenti pomeridiani interesseranno le zone interne montuose in estensione verso il settore adriatico, non si escludono occasionali rovesci a carattere sparso, ma in attenuazione in serata e nottata, poche novità anche nella giornata di domani. Ed è tutto per il nostro notiziario con queste previsioni curate da abruzzometeo.org che dicono che il mare è previsto generalmente poco mosso, con moto ondoso in temporaneo momento durante le ore centrali della giornata. Noi ci salutiamo. È tutto, grazie per averci seguito. A risentirci.